Termina con successo l'iniziativa legati al centro organizzata dal Consorzio Brescia Centro con la collaborazione del Comune di Brescia. Con le quattro giornate, 2, 9, 16 e 23 dicembre, i commercianti bresciani racchiusi nel Consorzio hanno raggiunto l'obiettivo che si erano dati, far rivivere il centro storico. Sono state 180 le attività commerciali coinvolte nel progetto che ha visto lo svolgimento del concorso Cancella e Vinci. Assegnati ai vincitori quattro soggiorni per due persone in esclusive strutture. Ancora assente il vincitore del weekend per due persone a Londra? Abbiamo avuto un concorso, abbiamo avuto quattro vincitori, il quinto è ancora in ballo, probabilmente c'è questa cartolina che ho in una borsa o in un sacchetto o magari appoggiato su qualche tavolino, anzi mi chiedo proprio a coloro che hanno fatto gli acquisti in quel periodo se hanno questa cartolina di grattarla perché potrebbe esserci tra l'altro il premio, quello magari un pochino più importante perché era il viaggio che portava a Londra e a cena da Gordon Ramsay. Soddisfatti sia i commercianti che l'amministrazione comunale. I riscontri credo siano oggettivamente importanti, moltissima gente ha animato la nostra città in questo lasso lungo di tempo perché comunque è durata un mese questa iniziativa. Credo che i risultati sicuramente siano positivi anche in un momento di grave recessione commerciale. Il nostro obiettivo era sicuramente quello di collaborare con il commercio della città, far sì che fossero loro i protagonisti di quanto si poteva costruire all'interno del centro storico e credo che questo sia un obiettivo raggiunto.